Sono Alice Alario, ho 25 anni, vengo da Palermo, sono stata licenziata perché hanno preferito la cognata, cioè i familiari come sempre. E io sono giovane e simpatica e dicono che posso trovare altro, ma non credo molto in questo. Perché devo dire? Vorrei lavorare, vorrei guadagnare e vorrei fare qualcosa di interessante e di creativo. Posso andare? Posso andare? Posso andare? Posso andare? Posso andare? Sebbene